Garmadon sottotiro. Rilevati nemici multipli nelle vicinanze. Più civili e due ninja. Ovvero noi, Zane. Allora la mia analisi è corretta. Torniamo al lavoro. Sorpresi? Bene, dovete essere sempre vigili. Uno tocca al razzo. Questo sì che è un fast food. Hai una cosa, Eleloid? Inizio ad avere l'impressione di non piacere né a te né ai tuoi piccoli abicini. Qualcuno ha idea di cosa fare? Dovremo consultarci, come nel football americano. Ninja Go! Oh! Grazie a tutti.